allora dove siamo scesi mattia? guarda un po' più là dove c'è quei tronchi laggiù in fondo allora guarda un po' se trovi la pietra via questo va bene? vedi che bellino tenila così vedi perché queste sono le montagne e qui c'è tutta l'acqua c'è i ghiacciai vedi? non è brutta questa è bellina qui c'è il laghetto in alta montagna qui c'è tutti i ghiacci e poi noi siamo in cima alla montagna si cammina poi si va a trattare l'acqua va bene no? vai siamo passati da là siamo arrivati fin qua giù ora dove si va? ora si passa per l'acqua fa vedere? per quell'acqua lì eh? per l'acqua poi si va in su e poi si va a trovare le ghiacciai ma qui abbiamo cercato le pietre non ci sono? ecco non ci sono le pietre proviamo a andare di là andiamo a vedere di là dai di là allora sei pronto? te la senti di andare? andiamo no io non ce la faccio si si segui seguimi eh guarda qui però guarda qui eh com'è? come sempre andiamo in là guardiamo avanti vai avanti ohioioio la corrente che c'è guardate che escursionista il mio allievo ragazzi arriviamo lassù ora ha guardato l'acqua e si va a cercare le pietre grande Mattia è arrivato il nostro il nostro eroe scavo ecco poi la prendi dopo si guarda prendila va a vedere va a vedere che bellino allora vediamo quando è bagnata quella è bella bagnala un po' vediamo queste pietre va a vedere guarda è bella lo vedi guarda com'è fatta guarda è bel colore bagna quella no quella butta via non è bella questa che hai trovato te girala ah bella che questa è bella vero? queste sono bellissime eh queste le portiamo vai Mattia le portiamo a casa ora si continua andiamo va a vedere va a vedere qua quello l'ho fatta il cinghiale che si mette sdraiato e si mette lì a dormire vedi? e sta al fresco perché c'è il fango e si leva tutte le pulci le zecche col fango stanno ma bello ma poi questo è fresco questo c'era prima sai guarda guarda i pesciolini ah questo no quelli sono animaletti che stanno sull'acqua quelli che sbollano sono pesciolini vai andiamo a tirare adesso vai fa vedere questa com'è questa va bene quale va bene fa vedere ah questa è bellina eh è questa ok questa no poi vediamo quell'altra quelle lì quelle tre lì che hai messo lì no questa non l'ho messa vediamo eh scura non va bene vero questa questa nonice vedi vedi un onice ecco tutte le sue righe guarda che bella guarda che bei movimenti che c'ha vedi tutti sti movimenti ah questa questa c'è una parte e questa che l'hai trovato te però vedi il rosso no non l'ho trovata io però va bene allora ci siamo ci siamo ok ora se vuoi passiamo tutta l'acqua fino alla su in cima in cima in cima in cima dove si va Mattia si va lassù ok piano piano e si arriva passiamo l'acqua arriviamo lassù in cima ok però è bello vero ti piace camminare nell'acqua si per poi mi farei un tu eh eh no ah 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 con lo zio matto eh andiamo ecco il nostro eroe mattia che da la in fondo è venuto su e ora mi raggiunge su questo brecciolaio perché io ne ho visti tanti di cinghiali? perché? ne ho visti tanti di cinghiali chi? chi? chi sono io? un esploratore eh 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 andiamo a esplorare andiamo a esplorare qui se c'è cinghiali vieni Mattia Mattia che facciamo torniamo indietro? si dove bisogna passare per tornare indietro? andiamo là dentro l'acqua dentro l'acqua si andiamo torniamo indietro piano piano si arriva giù vero? no andiamo andiamo si è bella prova a scappare eccola la ora questa va portata a bagnare vai lo metto là? si piano è bella? merita? vuole la pena o no? vediamo la su? ora no bella questa vedi dove è la macchina lassù? guarda come bisogna fare noi che strada si fa? quella di prima quindi? si passa lì? nell'acqua? e poi bisogna arrampicarsi e poi bisogna arrampicarsi lassù speriamo ora di farcela andare via eh? eh io mi sono arrampicato perché io da piccolo scavavo 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 poi mi sono andato dentro poi poi sono risalito su ecco quindi sta a tempo ok oh via vado alla bella l'acqua oh mamma mia che guado che ci sta facendo noi eh? mica hai paura te? guarda te sei come lo zio eh? ahahah non ci fare la pipì che io sono sotto eh? andiamo avanti dai dobbiamo andare vatti dobbiamo andare dall'altra parte ahahah senti com'è bella calda se mi fanno i vestiti la mia mamma si arrabbia no no glielo ho detto io dai qui ci siamo fammi vedere ma non ce la faccio ahahah poi deve andare su quell'altro bisogna salire su andare lì e rampiccarcela eh? ciao fiume